Buon pomeriggio, benvenuti ai nostri delle spettatori qui dalla Polizia Sportiva Messina. Oggi abbiamo un ospite importante, un ospite d'eccezione, Giovanni De Pasquale, regista messinese conosciuto in città. Che ci racconterà un po' di lui? Stavo pensando una cosa Giovanni, che in queste prime cinque puntate abbiamo avuto, diciamo che stiamo avendo due registi, perché abbiamo avuto Salvo Grasso in precedenza, oggi Giovanni De Pasquale. Allora mi viene da pensare, ma insomma il cinema non è in crisi? No, il cinema è in crisi, è in crisi, solo che nel mio caso lo faccio per passione, per cui la passione fortunatamente non è mai in crisi. Vabbè, ma la passione penso che sia la base di qualunque cosa, anche noi siamo qui, prima per passione e poi per il cachet, chiaramente, ma la prima cosa è la passione. Sì, ma il cinema italiano è in crisi perché vogliono che lo sia in crisi, perché credimi c'è veramente tanta... Allora, cominciamo forte, perché vogliono che sia in crisi? Ma perché non hanno interesse, forse nel portare avanti ragazzi nuovi, sceneggiatori nuovi, soggetti nuovi, vanno più sul velluto facendo delle cose che gli danno più tranquillità. Se posso tornare un po' indietro, mi piacerebbe chiederti come nasce la tua passione. Ma io la voto da sempre, da sempre. Ma c'è stato un evento particolare che ti ha fatto capire, ecco, voglio fare regista. No, sì, c'è stato nel senso che intanto io andavo al cinema e alla rassegna internazionale di Messina, quindi seguivo la rassegna di Messina, poi ero anche quella di dormire. Praticamente io non volevo fare regista, a me piace scrivere, no? E quindi abbiamo scritto insieme alla signora Grillo, che è la mia carissima amica, dei soggetti cinematografici. Direttamente abbiamo scritto tre. E li ho mandati, sai come si diceva, per il cinema italiano vogliamo idee inoltre, queste cose così, ok. E quel cinema italiano effettivamente è sempre stato un po' autoreferente, anche al cinema americano, internazionale, quindi ha dovuto un po'... Devo dirti che mi dispiace perché è molto autoreferente, però c'è il cinema italiano. E allora praticamente ho scritto uno o tre soggetti e li ho mandati al Rai Cinema, quindi senza niente, per la busta, non credo. Rai Cinema mi ha scritto dicendo che li valuterà. Io sai, mi sentivo... Probabilmente avrà risposto così a tante persone, probabilmente. Tante persone, passati tre mesi, mi ha detto che non era riuscito a trovare la casa di produzione e quindi diciamo tutto finì in una bella lettera. Però siccome la passione per il cinema e per le cose che mi piaceva scrivere e che ci piace scrivere perché siamo in due, io e un'altra amica che non conosce, la signora Grillo, a questo punto mi sono reso conto che se volevo realizzare quelle cose le dovevo fare da improprio. e così iniziai a fare i primi cortometraggi per poi avere la possibilità... Quindi diventi anche produttore, perdonami Giovanni. Sì, sì, sì. Insieme alla signora Grillo abbiamo costituito... Felicia Grillo. Felicia Grillo. Abbiamo costituito una società, abbiamo prodotto il nostro primo film. Però io vengo fuori, mi sono fatto delle esperienze con dei cortometraggi. Il primo l'ho fatto all'Ipari con una bambina molto bella sull'ambiente. Poi ne ho fatto un altro con Adele Tirante, un'attrice che adesso va in gamba, una grande attrice. Poi praticamente arrivato a quel punto arrivato, io la verità sono andato a Taormina. A Taormina ho visto un cortometraggio, un cortometraggio, un corto che secondo me, a occhio e croce, se non hanno speso 700 mila euro giù di lì per fare il cortometraggio. Io l'ho valutato in questa maniera. E' più o meno il budget che hai tu normalmente per fare un corto. Per cui continuare a fare i corti. E così abbiamo fatto la società, abbiamo fatto la nostra opera prima, si chiama Lucia Colore della Pisa. L'abbiamo dato a Messina una settimana grazie al cinema per l'Avollo. Dopodiché non è stato distribuito. Ecco, uno dei problemi della cinematografia italiana è la distribuzione. La distribuzione. Perché la distribuzione è complessa, è complessa. Quindi non è stato distribuito, però abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni perché siamo stati presi a Bollino, in India, e quindi ci siamo fatti io e la signora un bellissimo viaggio a Goa, in India, in questo festival mondiale. Le cose strane. In cui pensa che il nostro film esce in una brochure insieme a Woody Allen e Roman Polanski. Io non ho fatto altro che ringraziarle. Assolutamente. E quando sono arrivato la mi hanno chiesto, dice, ma tu come arrivasse? No, quella prima cosa non è che ti... Guarda, io ho solo mandato il mio DVD, solo ho mandato il DVD ad un festival dove non si paga per... Un festival internazionale prestigioso, tra l'altro. Quindi ci vuole un po' quella, come dire, intraprendenza. Ecco, se volessi consigliare ai giovani cosa diresti tu? Ecco, come possono iniziare il percorso? Ai giovani, sì, direi una cosa, intanto trovo di un mestiere per sopravvivere. E quindi tu stai già dicendo la professione che diventa, diciamo, un hobby, no? Ma non peraltro perché è talmente complesso, mi serve, non divento un hobby, è talmente complesso che poi diviene anche difficile da gestire. Quindi vivere di regia... Vivere di regia forse si può. Probabilmente, Jenny, probabilmente a Roma, a Milano, a Messina, o comunque nella periferia italiana... È complesso. Ma cosa mia crederci, volerei potere. Ma sicuramente. Sì, però c'è un problema, scusami Giovanni. Perché Bollywood, l'India, ti premia e poi arrivi in Italia e non riesci nemmeno a distribuirlo? Se la vedi con i francesi... E no, perché poi quello che dice Jenny io sarei d'accordo con... Ma il problema, sai qual è, che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E non è che... E non è che un mare molto... Scusa, però ci tengo a precisare, non è che non abbia fatto nulla. Ero solo seduto in attesa che qualcuno me lo distribuisse. Ma non pensi che così rischiamo poi di perdere dei talenti? Alla fine... Alla fine... Sicuramente sì, però ti voglio dire una cosa, io per esempio ho scoperto che là in India ci sono anche altri stati bravissimi ragazzi che poi anche loro non hanno avuto la possibilità di avere distribuito il suo film. Quindi credo che se noi vogliamo recuperare un attimino il cinema italiano dobbiamo cominciare a recuperare la distribuzione di tutti i film indipendentemente da che vengono fatti. Cioè un film che avviene per l'altro... Dare a tutti la stessa possibilità. Dare a tutti la stessa possibilità. Poi naturalmente nella partita si può vincere... E qual è il soggetto che preferisci? Ma io ho sempre fatto soggetti a sfondo a temi sociali. Ah ok. Quindi non ho mai... Un tema sociale contestualizzato nel territorio? Sì, ti parlo del film per esempio, il film tiene presente delle varie realtà tra due donne gay e due uomini gay all'interno di una famiglia standard normale. Quindi tematiche d'attualità? Tematiche d'attualità in cui parlo dei giovani e anche degli anziani, io ho avuto il piacere... No, allora aspetta, se tu mi coinvolgi allora dobbiamo dire la verità. Allora spieghiamo ai telespettatori, lo spieghiamo anche a Jenny, perché alla fine Lucia e i colori della vita, regia di Giovanni De Pasquale, è stato premiato. Mi è stato raccontato che la giuria stava seguendo la proiezione del film, in India no, mi è stato raccontato che la giuria stava seguendo un buon film, per carità, tutto sommato eccetera. Poi, capito, c'è stato il quid che ha scatenato l'entusiasmo nei confronti del film che viene premiato, la scena finale dove c'è un attore, diciamolo pure, di livello hollywoodiano, no, hollywoodiano, un'interpellazione di pochi minuti, ma incisiva, importante, e chiaramente restare tutte con la buccavetta, come si diceva. E come si chiama questo attore così importante? No, dico, eh, c'è, ditelo come si chiama. Non mi ricordo, perché ora è... Si chiama Pisazza Saier, capisci? Anche l'attore ha fatto i grandi anni. Ah no, ah no. Anche è vero che hanno chiuso le luci e se ne sono andati tutti. Quindi è stato in un tuo film? Eh? Ma protagonista? No. È barsa? No, 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 ha fatto una scena, peraltro molto complessa, che parla del problema degli anziani, che vengono presi in giro dalle donne. Non si aspetta di Giovanni Attone, credimi, mi spupisci? Meglio non parlare. Ogni trasmissione scopro novità di Giovanni, mi spupisce. Guarda che Giovanni fa una parte che come testo è molto bello, nel senso che parla di un uomo che fino a quando ha soldi vola, quando i soldi finiscono non vola più. Esce. E quindi quello... Prima era, come dire, un uomo affascinante, poi improvvisamente il faccio l'è finito, e quindi c'era una dura realtà sulle panchine dei parchi cittadini. Giovanni... Mi dispiace se non sto a posto a fare... Puoi vedere qualcosa sul mio sito? Pubblicità Progresso. www.gevannidepascole.com Vabbè, 200 euro, grazie per la pubblicità. Giovanni, il tuo regista preferito? Il mio regista è lui. Il mio regista preferito, l'ho già detto, è Rossellini. L'ho già detto, Pensa, quando ho avuto il piacere di essere nominato per un cortometraggio, perché ho fatto un cortometraggio sui bambini all'interno del carcere. Una tematica anche là molto forte. e ho ricevuto una telefona da Pensa, mi ricordo benissimo, che era il periodo della Befana, da un signore che si chiamava Gianluigi Rondi, il quale mi comunicava che il mio cortometraggio, voglio essere libero, era stato, andava in valutazione, è andata in, per i davidi di Donatello. Poi ovviamente non ha vinto, ma non ha importanza. Però? Mi ha dato questa soddisfazione immenza. E là mi chiedevano che era il mio regista. E ho detto sempre a Rossellini, perché lo trovo una persona molto tecnica, molto attenta, che non lascia nulla all'impedale. È sempre attuale. Sì, sì. Non tanto sulle tematiche, ma sulla qualità del prodotto, che è ad altissimi livelli. Sì, non ha... E bisogna... Non è facile. Non tramonta. No. Poi, per carità, qui sono tutti gli altri, è inutile parlare dei classici del cinema italiano. Senti, però tornando a te, Giovanni, comunque questa estate è stata una estate importante, prolifica, perché c'è stato anche qualche settimana fa un premio per un tuo corto, a quale tieni parecchio, anche e soprattutto, direi, per la tematica di questo lavoro che hai fatto, diciamo, recentemente. Sì, mi hanno dato una menzione speciale per il cortometraggio che ho fatto, Violence, che è un cortometraggio che riguarda proprio la violenza sulle donne. Questo è l'ultimo, proprio l'ultimo, l'ultimo nato, in cui anche là è una tematica abbastanza forte, complessa, in cui ci sarebbe da aprire veramente grandi spazi di dialogo. Attualissimo. Perché credo, credo, e lo posso sottoscrivere, che il problema di questo sono le donne. Dice, sembrerebbe strano, ma sono le madri che non educano i figli a avere determinate situazioni. Perché io, io da siciliano, ho assistito tantissime volte a delle madri che dicono, è buono l'assurdo stare, è buono l'assurdo stare. Questo è buono l'assurdo stare, detto in siciliano, che significa, vabbè, lascialo stare, fagli fare quello che vuole. Non ha fatto nulla di grave. Ecco, diciamo un po'. Questo gli dà al bambino, fa crescere la capacità che può fare tutto quello che vuole. sin da bambino. Bene, bello. Allora, questo è il primo punto fondamentale, quindi c'è la famiglia, il primo nodo. Il secondo è un discorso culturale, un discorso culturale di base. Assolutamente. Perché praticamente, che cosa succede? Così come esperiamo, io faccio parlare quattro donne, metto quattro donne che hanno tutte subito lo stesso percorso. È un cortometraggio molto complesso perché non è molto, sono tre minuti, però parla di nero, sì. E concludo con una sola espressione, che chi ama non può uccidere il proprio amore. Cioè, se tu ami una persona, sei felice per lui e vuoi la sua felicità, non vuoi la sua morte. Assolutamente sì, direi formazione e informazione possono rappresentare sicuramente un aspetto importantissimo. Siamo in chiusura. Per superare questi temi. Siamo in chiusura, abbiamo raccontato qualcosa con Giovanni Di Pasquale perché ci sarebbe da stare ore, 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 a parlare della sua attività. Chissà, qualche altro appuntamento? Stavolta rubo una domanda sua. Nel cassetto i sogni che... Ma nel cassetto c'è sempre diciamo il discorso di fare un'opera seconda, anche se so che è molto complesso, per cui sono alla ricerca di un produttore, anzi faccio un appello. Se c'è un produttore con cui possiamo fare sinergia per fare l'opera seconda... Però la voglia di andare avanti c'è. Sì. Grazie a Giovanni Di Pasquale, anche a Felicia Grillo, che comunque è sempre presente quando ci sei tu. Grazie a Genilello, grazie alla Polizia Partita Messina che ci ospita ogni settimana con Circus. Appuntamento. Io volevo ringraziare te, volevo ringraziare la signora, volevo anche ringraziare la produzione del vostro invito. Grazie ancora, un abbraccio. Grazie a tutti.